Questo è un momento storico fondamentale per l'intelligenza artificiale e tutto quello che succederà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, oggi qua in Inghilterra si è tenuto il primo AI Safety Summit, che è questo summit internazionale con i governi di alcune tra le nazioni più importanti al mondo dove hanno parlato di intelligenza artificiale ma soprattutto di rischi, di problematiche, di sicurezza e di futuro. E' stato da pochissimo rilasciato questo documento, la Blanchet Declaration, quindi un policy paper, un po' l'output di questo primo summit che è stato fatto. Andiamo a vedere un pochino di cosa si è parlato perché secondo me ci sono degli aspetti interessanti e qualche riflessione interessante da fare. Prima di tuffarci nel video della lettera però che vi lascio qui sotto in descrizione, vi ricordo che se volete potete supportare questo canale, se vi interessano gli argomenti che porto qui sopra, se vi sono utili, soprattutto questa parte che riguarda l'intelligenza artificiale ci sono due modi. Puoi cliccare il link, il pulsante qui sotto grazie, fare una piccola donazione, decidi tu di quanto, oppure cliccare il pulsante abbonati e c'è un abbonamento mensile ricorrente e anche lì ci sono varie cifre, puoi scegliere di abbonarti alla cifra che preferisci. E quelli che fanno l'abbonamento ricevono anche un piccolo extra, qualche piccolo regalino che gli altri non possono ricevere. Tuffiamoci nel vivo della lettera e vediamo un pochino di cosa si parla, voglio guardarla proprio velocemente con voi, poi ve la potete leggere con calma, la trovate qui sotto in descrizione. Allora, qua si parla dicendo che l'intelligenza artificiale ha delle opportunità enormi, c'è il potenziale per trasformare e migliorare il benessere dell'umanità, portare pace, prosperità eccetera eccetera. Ok, su questo sono d'accordissimo, deve essere ovviamente progettata e sviluppata in un modo che sia sicuro, che sia umano centrico, questo mi piace parecchio e di cui ci si possa fidare e responsabile. Quindi invitiamo la comunità internazionale a fare questo lavoro insieme, di gruppo, facendo in modo ovviamente che si proteggano i diritti e le libertà fondamentali. Questa già è una cosa che non dappertutto sta avvenendo, sappiamo che in alcune zone del mondo le AI viene utilizzata già per ridurre le libertà e i diritti. L'intelligenza artificiale è già ovunque in mezzo a noi, sì questo lo sappiamo, da parecchio tempo ormai la utilizziamo dappertutto. E vabbè per fare in modo che ci siano degli sviluppi, per cogliere queste opportunità in maniera inclusiva coinvolgendo le nostre relazioni dal punto di vista globale. Sì, questo è super interessante, infatti questi sono i punti sui quali secondo me poi l'intelligenza artificiale potrà fare la differenza, no? Non è già GPT che cambierà il mondo, ma quando si parla di scienza su quella roba là, veramente, veramente ci possono essere delle cose pazzesche da fare. Ovviamente ci sono anche di rischi, assolutamente, assolutamente, ce ne sono tantissimi di rischi. Dobbiamo quindi affrontare l'impatto che questi strumenti di AI possono avere, sì, su diritti umani, come dicevo prima, trasparenza. Vabbè, i temi dei privacy, protezione dei dati, questo è un tema enorme e questo forse è uno di quelli che più mi sta a cuore in assoluto, nel grande problema dei bias nei dati, bias negli algoritmi. Se ne potrebbe parlare per ora, mi fa piacere che venga addressed, no? Che venga affrontato questo tema. Eh sì, vabbè, c'è un'urgenza enorme di parlarne perché l'AI va alla velocità della luce e lo sappiamo che i governi, le leggi non sempre riescono a stare dietro al progresso. Vediamo di cosa si parla. Ah, si parla anche di AGI, questo è interessante, no? La General AI, l'AI generale, l'AI forte, poi viene chiamato in vari modi. Le AI, diciamo, che può fare tutto, la semplifico parecchio, ok? Per capirci, e quindi qua si parla anche dei rischi legati a questi strumenti, ovviamente no, agli utilizzi che possono essere fatti dai malintenzionati. Se non c'è un allineamento con l'intento umani, pur di questo si potrebbe parlare per ora perché ovviamente generalizzare, no? E definire quali sono gli human intent è difficilissimo. Prendi due nazioni molto diverse tra di loro, possono avere interessi diversi, obiettivi diversi, possono... E lo sappiamo già, no? Succede già così, ma non solo per le AI, ma per tanti altri ambiti. Diceva, le problematiche più grosse che ci preoccupano sono la cyber security, assolutamente, biotechnology. Disinformazione forse è quello più grosso al momento, quello che possiamo vedere, no? Sta già succedendo, stiamo già vedendo come forse alcune elezioni sono anche impattate dalla disinformazione che viene creata facilmente con le AI. Qua però la sapete la mia opinione, ve la dico spesso nei commenti qua su YouTube, la soluzione secondo me è nel AI stessa, no? Gli strumenti che ci permettono di creare facilmente le fake news sono gli strumenti che dobbiamo utilizzare per poter rilevare, rivelare se quel video è un video fasullo oppure no, se quell'immagine è un'immagine finta oppure no. Secondo me è nella ricerca la soluzione, no? Nel continuare a capire cosa possiamo ottenere con questi strumenti. Beh sì, ovviamente sì, è urgente, cooperazione internazionale, su questo sono d'accordissimo, non solo cooperazione internazionale, quindi lavorare insieme, ma anche coinvolgendo vari attori, cioè questa è una cosa che riguarda solo i governi, ma governi e industria, anche i soggetti privati, non solo, l'università, non tutto il mondo della ricerca, veramente tutti, tutti, tutti devono essere coinvolti in questa roba qua. Vabbè qua si ripete un po' quello che c'è scritto pure sopra, questa parte qua non è banale ovviamente, quindi diciamo quando ti metti a lavorare tutti quanti insieme poi devi valutare il fatto che ci sono magari dei legal frameworks diversi in varie nazioni, un po' come quello che dicevamo prima, perché varie nazioni hanno magari obiettivi diversi, hanno valori diversi e ritengono che alcune cose siano giuste o sbagliate in maniera diversa, quindi non è facile farlo a livello internazionale o una roba del genere. Super, super, super interessante, si fa già riferimento ai summit del futuro. Ah ok, questo è bello, questo è un po' quello che dicevo prima, quindi dobbiamo lavorare tutti insieme, anche l'università, la ricerca, non solo le aziende e così via, questo è super interessante. Mi piace molto questa roba qua. Vabbè, quindi ovviamente utilizzare le AI per la crescita eccetera eccetera. questo l'abbiamo già detto prima, assolutamente sì, la sicurezza va affrontata in maniera trasversale in tutti gli ambiti. Questo è super interessante, anche sviluppare strumenti che ci permettono poi di testare, che ci permettono di misurare e così via, come misuri, come testi, questo è un altro tema veramente enorme, grande, veramente grande, 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 grande. Trasparenza e accountability, questo secondo me è uno dei punti principali verso i soggetti privati, no? Nel senso sapere cosa c'è dietro, sapere cosa succede, perché se cade nelle mani sbagliate, ovviamente nelle mani sbagliate, anche qua, mamma mia, vabbè, queste cose sono tutte molto belle sulla carta in teoria, no? Però poi dice, come faccio a controllare che non cade nelle mani sbagliate, no? Produco un coltello, vendo un coltello e poi come faccio a sapere che uno non compra un coltello per farci un omicidio e non per tagliarci la carne? Non è banale come cosa, soprattutto per tecnologie di questo tipo. Ok, perfetto, mi sembra che la lettera sia arrivata alla fine. La nostra agenda sarà su questi due punti. Vabbè, quindi trovare e identificare un pochino questi rischi. Questo mi piace molto, quindi con una base solida scientifica, quindi non basta dire a me mi fa paura questa cosa e quindi non la facciamo, altrimenti non faremo niente, blocchiamo il progresso, ma qua invece si parla di verificarlo in maniera scientifica, questo è interessante. Vabbè, quindi qua si parla delle policy che diciamo prima, i legal frameworks, eccetera, eccetera. Trasparenza nel settore privato, questo per me è un punto fondamentale, è poi questo, sviluppare appunto metriche di valutazione, strumenti per il test, ambienti proprio di sviluppo e così via. E cosa si dice qua? Vabbè, cosa abbiamo detto già prima, collaborazione multilaterale, network inclusivo, mi piace, questa roba ci sta. Ci vediamo nel 2024. Ok, forse mi aspettavo di più, cioè una bella dichiarazione, io sono molto pragmatico, quindi mi aspettavo anche qualche proposta pratica. Ci vediamo nel 2024, da molto 2024 sarà cambiato di nuovo lo scenario delle avi. Vediamo un po' chi l'ha firmato. Mi fa piacere vedere la Cina qui dentro, ve lo dico in tutta sincerità. Ok. Non capisco perché c'è l'Unione Europea, e poi vedo pure la Francia, l'Italia, la Spaccia, ci sono anche le nazioni singularmente. Chi altro c'è? UK, vabbè UK sono stati un po' i promotori, hanno spinto parecchio, hanno organizzato questa cosa, Stati Uniti ovviamente, va bene, ok, ok, va bene. Il resto... Mi aspettavo forse una lista un po' più lunga, ve lo confesso, però immagino che questa sia una prima edizione, ci saranno altri miti che nel 2024, mi aspettavo anche qualcosa di più concreto, perché poi bisogna intervenire concretamente e capire cosa fare. Bene, 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 bene. Allora, questo video è stato un po' diverso dal solito, innanzitutto se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, siamo quasi arrivati a 100.000 iscritti e per me questa cosa è impensabile, grazie di cuore se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ma soprattutto fatemi sapere se questo video vi è piaciuto o meno, se vi interessano questi argomenti o meno, perché io mi leggo un botto di roba pure su questi aspetti, quindi la parte di sicurezza, di quello che stanno facendo i governi, ma anche quello che stanno facendo i privati, no? Adesso c'è questo consorzio, non saprei come chiamarlo, questo gruppo, le grosse big tech che stanno lavorando sull'EI che pure si stanno mettendo insieme per affrontare i problemi legati all'intelligenza artificiale, se questa roba non vi interessa me lo fate sapere senza problemi, me lo scrivete qui sotto, non c'è problema, o me ne accorgo perché sto video fa 300 visualizzazioni, oppure se vi interessa ditemelo perché io mi leggo un sacco di roba e magari faccio qualche altro video interessante dove parliamo pure di quello, di sicurezza, di problematiche, di dove si sta andando anche nelle collaborazioni con i governi e con le aziende e così via. Altrimenti me li tengo per me e non fa niente, me li continuo a leggere, a voi vi faccio solo i tutorial colorati, carini e coccolosi. Prima di salutarci vi lascio a video un video che può essere interessante su questo tema perché qualche giorno fa ho pubblicato un video su l'EI e il guadagno facile. visto che ci sono diverse truffe e un po' di fuffa mi sono incartato in questo periodo su questa roba vi potrebbe interessare, ve lo lascio qua a schermo, cliccate il video per andare ad approfondire e fate attenzione alle truffe e ai cerlatani.